Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica è ricco di insegnamenti. Questa pagina mette in luce quelle che sono le esigenze di chi vuole veramente seguire il Signore. Questa pagina ci fa comprendere che Dio deve essere messo al primo posto nella nostra vita. Tutto il resto, anche se si tratta degli affetti più sacri, deve essere posto dopo di Lui. Gesù lo dice chiaramente, chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Parole molto esigenti che devono essere prese in seria considerazione. Gli affetti più cari, come quelli che nutriamo per i genitori, per i figli, per i parenti in generale, per gli amici, sono al secondo posto rispetto a Dio e alla sua volontà. Ricordiamoci dell'esempio di San Francesco d'Assisi, il quale da una parte sentiva fortemente la chiamata del Signore che lo invitava a seguirlo in una vita di povertà tutta spesa nell'amore di Dio del prossimo. Dall'altra parte era trattenuto dall'egoismo del padre che voleva fare di lui un ricco mercante. Con il dolore nel cuore San Francesco preferì seguire la chiamata di Dio e così facendo fece certamente l'autentico bene dei genitori. Non si tratta di dimenticare i propri cari, ma di non amarli più di quanto amiamo Dio. Così facendo, mettendo Dio e la sua volontà al primo posto, ci accorgeremo di amare i nostri cari molto di più e li vedremo alla luce di Dio nel loro giusto valore. La seconda esigenza del discepolo è quella di prendere la propria croce. Gesù lo afferma con forza, chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Prendere la propria croce e seguire Gesù significa accogliere le inevitabili prove della vita con spirito cristiano, ovvero non con una semplice rassegnazione, ma con la riconoscenza di chi sa che la sofferenza accettata con amore ci trasfigura e ci rende sempre più simili a Gesù. Inoltre una croce rifiutata ci schiaccerà, mentre una croce accolta per amore di Dio diventerà leggera. Subito dopo Gesù ci rivolge una frase molto esigente, chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Con questa affermazione il Signore vuol farci comprendere l'importanza di saper donare la nostra vita per amore. San Giovanni Paolo II, ancora prima di diventare Papa, commentando questa frase, diceva che con queste parole viene espresso il paradosso dell'amore e della vera libertà. Da una parte l'amore è l'espressione della più grande libertà, d'altro canto a causa dell'amore la creatura si dona totalmente alla persona amata, appartiene alla persona amata. Perdere la propria vita dunque significherà amare con tutto il nostro cuore. Gesù ci invita pertanto ad amare, amare Dio e il prossimo, solo così ritroveremo la nostra vita per l'eternità. Si perde la propria vita in sommo grado quando si affronta il martirio, inoltre quando ci si consacra al Signore nella vita sacerdotale o religiosa. Con il dono della vocazione il cristiano si dona totalmente a Dio, vivendo in obbedienza a povertà e castità. San Giovanni Paolo II, parlando della consacrazione alla Madonna, insegnava che non si può comprendere tale consacrazione senza prima aver compreso l'esigenza evangelica di saper donare la propria vita per poi ritrovarla. Con la consacrazione alla Madonna il cristiano consegna la propria vita nelle mani di Maria per appartenere ancora di più al Signore e per assomigliare ancora di più a Lui. Il brano del Vangelo prosegue poi con una frase molto bella e profonda. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. Questa frase di Gesù la vediamo realizzata nella prima lettura da una famiglia di Sunem la quale era solita ospitare il profeta Eliseo e per lui volle costruire una piccola camera affinché vi si potesse ritirare. Il Signore benedisse quella coppia di sposi così generosa concedendo loro il dono tanto sospirato di un figlio. Tutto ciò che si fa al discepolo di Gesù è fatto Gesù stesso e non rimarrà senza ricompensa. Lo dice chiaramente Gesù e chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché mio discepolo in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa. Il discepolo del Signore rende presente in qualche modo il Signore. Ogni gesto a Lui rivolto è rivolto a chi lo ha mandato ovvero a Dio. Quando è dunque che il nostro atto di carità è altamente meritorio? Non è meritorio questo atto di carità quando noi compiamo il bene per vanità, per essere lodati e ammirati dagli altri. Non è nemmeno meritorio quando agiamo per filantropia, quindi senza nessuna motivazione spirituale soprannaturale. Invece questo atto di carità è altamente meritorio quando compiamo questo bene con sguardo di fede e intendiamo rivolta a Gesù l'azione benefica che stiamo compiendo. La intendiamo rivolta a Gesù che vive nella persona del suo discepolo che è da noi beneficato o che un giorno potrebbe diventare discepolo di Gesù. Nella vita di Santa Elisabetta, regina di Ungheria, si legge un episodio molto edificante. La Santa era solita a beneficare i poveri per amore di Dio e un giorno incontrò un povero lebroso. Ella lo prese per mano, lo portò al castello, curò le sue piaghe e poi lo adagiò su di un letto. Soltanto dopo si accorsero, lei e il re suo marito, che il povero lebroso era Gesù stesso in persona, il quale per qualche istante si fece da loro contemplare. Siano lodati Gesù e Maria.